Il paradiso delle signore, giovedì 11 giugno 2020. Sentendosi in colpa per il crollo fisico avuto da Angela, Riccardo la fa portare a Villa Guarnieri per avere le cure migliori. Salvatore parla con Agnese per avere dei suggerimenti sul da farsi con Gabriella. Il ragazzo vuole sapere quale possa essere il momento opportuno per chiedere la sua fidanzata in sposa. Angela inizia a riprendersi a Villa Guarnieri e scopre molti dettagli in più sulla famiglia di Riccardo. La giovane è molto felice di essere stata accolta positivamente da tutti, ma Delaide e Umberto vogliono che lei lasci presto la casa. Infatti la presenza di Angela potrebbe essere oggetto di pettegolezzo. Intanto Anita va a parlare con Marcello e Salvatore per avvisarli tempestivamente che la caffetteria deve essere venduta. Di conseguenza loro devono fare il possibile per trovare un nuovo impiego. La notizia getta nella disperazione i Barbieri che aveva intenzione di cambiare radicalmente in meglio la sua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.